Molti networker iniziano la propria carriera leggendo e studiando materiali da parte di guru americani e questo è del tutto naturale perché il modello di business del network marketing è nato negli Stati Uniti. Però quanto è corretto applicare strategie e metodi che sono nati e testati a migliaia di chilometri dal bel paese? Beh ti devo dire che purtroppo almeno la metà di queste strategie, di questi metodi non funzionano assolutamente in Italia e in generale in Europa. Non funzionano nemmeno appunto in Bulgaria dove io vivo, quindi non solo in Italia ma direi nella maggior parte dei paesi europei. Questa non è una cosa da poco se ci pensi perché quando noi parliamo di vendita in generale, di persuasione, in realtà anche i piccoli dettagli possono far cambiare le sorti di una trattativa. Quindi non ti devi mai scordare che la persona davanti a te, anche a livello inconscio proprio, è pronta subito ad aggrapparsi ad ogni possibile scusa pur di non uscire dalla propria zona di comfort. Quindi è vero che noi come esseri umani abbiamo diciamo in comune molti aspetti, però ogni comunità, ogni popolazione sviluppa poi le proprie abitudini e i propri usi e costumi. Quindi ogni popolazione possiamo dire ha la propria mentalità. E quindi puoi già qui capire che quando tu magari usi degli script, quindi dei copioni già pronti all'uso che sono in sostanza tradotti da guru come Randy Gage o come Eric Worley, se tu li usi in Italia al tuo interlocutore italiano suonano in realtà molto, abbastanza ridicoli, falsi e costruiti. Ecco perché io nel tempo, negli anni, ho smesso di avere solo dei mentori americani. E un'altra domanda che potrebbe sorgere ora è, ok, quanto è simile però la mentalità italiana magari ad altri popoli europei? Io ti posso parlare ovviamente della mia esperienza, della mia esperienza diretta, con la mentalità bulgara per esempio, no? Perché vivendo in Bulgaria, operando anche nel mercato bulgaro, riesco a fare confronti diretti in tempo reale, ecco. Beh, per quanto riguarda il business e in generale il network marketing, questi due popoli riscontrano davvero moltissime similitudini. Soprattutto lo vedo, diciamo, nello scetticismo delle persone, ok? In generale possiamo dire che gli abitanti dell'Europa del sud, quindi del sud sono molto più scettici rispetto agli anglosassoni, per esempio, no? Quindi in Europa, in Europa del sud guardiamo le novità con un certo dubbio, abbiamo sempre bisogno di avere più prove. Quindi in generale se vuoi lavorare con gli italiani, con gli spagnoli, con gli greci, i portoghesi e così via, no? Dei essere molto più preparato. Gli script, i copioni pronti all'uso all'americana funzionano molto molto poco. Non puoi seguire dunque solo i consigli dei vari guru americani, perché non sarà assolutamente sufficiente per te, ok? Essendo il nostro mercato molto molto più scettico, come appunto ho già detto. Però non ti devi preoccupare, perché tutte queste particolarità del mercato, del nostro mercato europeo, io le ho già tenuto in conto nel corso completo di Network Formula. E seguendo la formazione tu sarai pienamente preparato ad affrontare appunto il nostro mercato e la nostra realtà. Quindi troverai un link a questo corso qui sotto nel video e anche nel primo, anche nel primo dei commenti e quindi ti aspetto dall'altra parte. Mi stavo però per scordare, mi è venuto proprio in mente adesso mentre parlavo, cioè che anche molti dei guru italiani, quindi sembrano italiani, parlano italiano e così, nel campo del network marketing e in generale del marketing, seguono dei guru americani, ok? Quindi il che ci porta purtroppo al punto di partenza. Il mio consiglio per te è ovviamente stai sempre attento a chi segui e se vedi che sono dei modelli troppo simili, proprio dei copioni di quegli americani, purtroppo, come già detto, non funzionano bene in Italia. Per questo è tutto, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!